Ciao, mi chiamo Rocco Pellegrino, voce chitarra del gruppo Southern System e mi trovo qui oggi nel nostro studio per presentare il nostro nuovo lavoro. Il brano si chiama Farewell e lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il video ufficiale. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti